Torna ad accendersi il cuore di Camaiore con la suggestiva tradizione della solenne processione di Gesù morto. Un cammino di preghiera che si ripete dal 1700 ogni tre anni, la notte del venerdì santo, in un suggestivo percorso di luce che accoglie il corteo religioso lungo le strade del centro. Oltre 100.000 sono i lumini sistemati dai camaioresi sulle facciate, sulle ringhiere, sui balconi di case ed edifici pubblici, privati e religiosi. In palcature multiformi che sostengono i bicchierini riempiti da acqua e olio, i cosiddetti cincindellori che si accendono all'imbrunire. I piccoli manufatti vengono realizzati a mano dai membri della confraternita della Santissima Trinità, di Maria Santissima Dolorata e di San Vincenzo e distribuiti alla cittadinanza. Venerdì alle 20.30 il corteo religioso muoverà dalla Chiesa dei Dolori, dove è installato il complesso scenografico realizzato 150 anni fa dal pittore locale Ignazio Gabrielli. Da oltre 340 anni la deposizione di Cristo è il cuore della processione. Il simulacro del Redentore, quello della Madonna, di San Giovanni e Santa Maria Maddalena, raccolti sopra un palco, vengono portati a spalla per le vie del centro, mentre un coro di 100 voci segue il corteo intonando la Stabat Mater, composto appositamente per la triennale. Accanto alla confraternita dei Dolori, sfileranno i rappresentanti delle amministrazioni comunali della Versilia, della provincia di Lucca e della regione toscana, che patrocinano la manifestazione. Noi TV trasmetterà questo evento straordinario e in diretta, in collegamento dalle 20 alle 21 del venerdì santo, per mostrare tutti i preparativi, la partenza e le immagini più suggestive e intime della processione di Camaiore.